Silvia, la salvia più lunga del mondo, che ha fatto pure i fiori, guarda che fiori, e questo è il suo tronco, che è stato tagliato, perché troppo andava in su, arrivò fino al tetto, e invece così si è allungato e è andato verso la finestra. La cosa intelligente è che quando questo va giù, fa così, e quindi non prende la salvia, non la prende, e quindi resta così, e dopo vicino c'è anche lei, la migliore, e dopo c'è lei che sta facendo un fiore qua dietro. Continuiamo, andando di qua, Bonsi 2, sì perché ne avevo già uno morto, e quindi me ne hanno regalato un'altra, che è Bonsi 2. Qua ci sono altre piante grasse, la cuscina di suocera, questo che non mi ricordo il nome, questo che qui non mi ricordo il nome, e la visione delle piante davanti è finita. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!